Attenzione qua! A Jackson Martinez! Che è solo! Esce col portiere sbagliato! Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Jukin Next Gen. Ragazzi siamo tornati oggi sul PES 2016 e siamo sul My Club. Ragazzi dopo l'ultimo episodio con la qualificazione in divisione 6 all'eocardiopalma oggi siamo appunto iniziando la divisione 6. Come vedete ragazzi si fa sempre più difficile. Ora ci vogliono 13 punti per non retrocedere e 16 per andare in divisione 5. Ragazzi spero che disconnessioni permettendo riesco a meno conservare la divisione. Ok ragazzi andiamo subito a vedere chi sarà il mio primo avversario. Ok ragazzi eccoci qui contro il mio primo avversario. Come vedete lui ha una buonissima promozione con Remy, Carlos, Lopez, Danilo, Machin, Lodeiro, poi Dominguez, Warman, Dedea, Abate e Giulio Sassari in porta. Ragazzi ho Lewandowski, poi ho preso in prestito Jackson Martinez, poi Neymar dietro le punte perché Roberto Baggio la gestione allenatore non ce la faceva proprio di costi totali. Poi Milo, Levic, Sturaro, De Jong, Colerock, Godin, ho rimesso Mascherano in difesa, Lam e Leano. Ragazzi andiamo subito nel match. Passaggio come al solito a cazzo. No, 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 no. E' subito ragazzi il pericolo del nostro avversario. Sicuramente impostato, no erroraccio qui. Tiro, deviazione. Avrà impostato il pressing ragazzi il nostro avversario perché sta pressando. Attenzione qua. A Jackson Martinez che è solo. Esce col portiere e è sbagliato attenzione. ha rischiato tantissimo attenzione qui ragazzi che se ne va da solo e no perché no ragazzi ma perché non lo segue ah è poi il gioco ragazzi come non detto l'amma allora dentro ancora attenzione qua c'è un suo partito no no non ci credo e allora qua ancora proviamo il tiro con non c'è la donna mia ragazzi cosa mi sono divorato attenzione qua il tiro dell'avversario fuori cross dentro attenzione jackson martinez prova nulla da fare finisce in primo tempo ragazzi un po sofferto però non ci sono state grandi persone di 0-0 giusto bravo De Jong dentro per Lewandowski nulla da fare allora Neymar martinez Lewandowski non mi togliere non mi deselezionare il calciatore attenzione qua Lewandowski che se ne può andare solo trover più gol il gol di Bob Ester un alzino per noi passiamo il vantaggio con il star armato Robert Lavandowski Lewandowski lavandino Lewandowski dentro e allora pallone ancora dentro per Solaro e se ne va un brosco al gol razzoppiamo 1-2 devastante sempre lui per Armando Robert lavandino Lewandowski pure alzino per noi ragazzi non so qua cosa sia successo si è bloccato tutto ah no ecco ah si è disconnesso il mio avversario ragazzi questa valida è stata interrotta ragazzi io non ho avuto nessun problema di lag vediamo subito spero che mi dia la vittoria perché dopo che mi era uscito che si era disconnesso lui allora partire si è salvato perché l'avversario si è disconnesso vittoria ok ragazzi primi 3 punti presi in questa divisione 6 anche se con una disconnessione ok ragazzi andiamo a vedere chi sarà il nostro secondo avversario avversario ok ragazzi eccoci qui contro il nostro secondo avversario come vedete ha uno spirito squadra di 76 poi ci ha Fernando Torres Piatti e Moura Struttman Nizko Tiago Bernat Cahill Socrates Sabali e Giulio Cesar in porta quindi un'ottima formazione ragazzi io rispetto alla prima partita ho tolto Jackson Martinez e ho messo Mattia a destro e ho tolto Neymar e ho messo Roberto Baggio e Carmona a centrocampo per Miolivic o come cazzo si chiama lui ok ragazzi andiamo subito nel secondo match attenzione qua ha lavandino levandoschi dentro per Carmona che la mette dentro verso Kolarov Kolarov cross dentro Kolarov per destro anticipato di un soppio e allora qui attenzione a Baggio Baggio provo il tiro deviazione e non ci facevamo attenzione qua con lui in avanti ragazzi qui dice che la partita si è è stata abbandonata perché l'avversario si è disconnesso vittoria quindi ragazzi però la partita è appena iniziata quindi problemi presumo con i server di pesse dunque altra vittoria tenuta così ok ragazzi allora visto che è così giochiamo un'altra partita ok ragazzi eccoci contro il nostro terzo avversario sperando che anche lui si disconnetta non ricada la connessione ragazzi vedete a dire la formazione con lo dico immobile del cron e coman poi nine golland ma qui dita il basi per usci e cesni con una buonissima formazione che ragazzi andiamo a vedere quest'altra partita del giorno abbiamo sbagliato qua con la roba sbagliato allora ragazzi attenzione che il pallone sugo il tiro bravo gli ali ancora per scurraro che prova il cross scurraro ma sta entro no ragazzi no mi doveva scalare il calciatore però c'è ancora Baggio allora dentro ancora per Robert il tiro di Robert fuori di pochissimo Lavandino vicissimo al vantaggio grande Roberto Baggio che scatto dentro ancora passiamo in vantaggio Robert Lavandino Lewandowski 1 a 0 per noi attenzione qua per ora che subito lui il pareggio immediato il pareggio immediato ragazzi di partenza 1 pari le vantossi dentro fermate adesso al tiro la respinta qua c'è il tiro attraverso poi l'arrivo 2 1 ragazzi non ci posso credere l'avversario siamo sotto dobbiamo risuperare ragazzi non ho fatto nulla l'avversario un 2 tiri di odio ancora quel tiro eh ragazzi ma veramente non fa nulla poi prende palla fa partire due passaggi minessi lunghi dentro ancora destro ancora Robert Robert è solo il pareggio 2 pari meritatissimo ma guardiamo il pareggio giusto così maggio mattia adesso ancora destro è solo destro destro tiro e gol ribaltiamo tutto 3 a 2 per noi ragazzi ribaltone qual tiro cuori e finisce un primo tempo ragazzi bellissimo poche azioni tutti i gol 3 a 2 per noi vediamo come andrà il secondo tempo guardate qua ragazzi siti di lui 5 io di cui 3 gol io e due in grandissimo gol di Robert Lewandowski 4 a 2 che gol ragazzi ancora bacio dentro Robert Lewandowski nel raffallo però il pallone dentro verso mattia destro allora ancora centro per bacio il gol il casino di bacio 5 a 2 solo di bacio bisogna qua che abbiamo sbagliato e il tiro dell'avversario bellissimo ragazzi tentativo Nigel dentro verso mattia destro mattia destro ancora lui destro destro il gol 6 a 2 ragazzi goleata goleata incredibile ma via destro levantoski baggio baggio ancora dentro levantoski ragazzi non so se è la tua condizione dal limite prossimo ho calcio di rigore calcio di rigore ragazzi calcio di rigore pallo su Robert proviamoci vediamo un po raggio eh sbaglia ragazzi incredibile ho sbagliato un calcio di rigore 1-2 maggio bellissimo verso l'amma ancora l'amma dentro l'amma l'amma è dentro ragazzi Robert Lavaglino levantoski ancora un gol per lui mamma mia ragazzi che farla armato ok ragazzi l'avversario ha quitato terzo quit questo volontario come il primo il secondo no ecco qui ragazzi la partita è stata avvenuta perché l'avversario si è disconnesso vittoria che ragazzi tre partite tre disconnessioni dei miei avversari per una volta tanto non tocca a me direi due volontarie e una che sicuramente dipesa dal gioco allora questa qui ragazzi è la situazione abbiamo tre partite tre vittorie come vedete alla fine l'otto a due mi è stato annullato perché disconnettendosi in automatico mi ha dato la vittoria per 3-0 quindi abbiamo tre vittorie per 3-0 visto che ci sono state le tre disconnessioni ragazzi siamo a 9 punti mi mancano 4 punti per salvarmi che rimane sempre il mio obiettivo principale in ogni divisione e 7 punti per andare in divisione 5 quindi nel prossimo episodio vincendo e pareggiando le partite potrei già salvarmi comunque ragazzi se questa serie vi sta piacendo mi raccomando supportatelo con un bel like commentate se avete qualcosa da dirvi condividete se non avete fatto ragazzi iscrivetevi al canale consigliatelo anche i vostri amici ragazzi qui sotto trovate i miei social network facebook instagram twitter telegram e smaccio noi ci vediamo al prossimo video con la roccia di John One qui da Angione83 è tutto e ciao gamers iscriviti al canale